Mi chiamo Ryan Serant e sono uno dei migliori, se non il migliore, broker immobiliare del mondo. Fattoro oltre un miliardo di dollari l'anno. Sono il CEO e il fondatore della Serant, la più grande agenzia di intermediazione immobiliare nella storia dell'universo conosciuto. E non è un iperbole. Dopo aver venduto immobili per 12 anni e partecipato per 10 a case da milionari in New York, come un pazzo, ho deciso di fondare la mia azienda. Gratificante. Siamo a quota 350 agenti e sono passati due anni e mezzo. Tutti mi sconsigliavano di aprire un'azienda, però io questi no, li ho presi come dei sì.